Arriva la conferma dei Vescovi della Campania. Sono vietate le processioni. I Vescovi confermano quanto già stabilito per contenere la diffusione del coronavirus. Il Comitato Tecnico Scientifico, si legge nella nota ufficiale della Conferenza Episcopale Campana, continua a richiamare anche per le processioni il rigoroso rispetto delle misure precauzionali per evitare ogni tipo di assembramento dei fedeli. Lo stesso Comitato ritiene di dover confermare le indicazioni già fornite, considerato che per quanto riguarda le processioni è evidenziata la notoria donietà di queste cerimonie a costituire occasione di propagazione del contagio. Nella nota ufficiale della Conferenza Episcopale Campana viene sottolineato il buon andamento della campagna di vaccinazione, ma dall'altro lato anche la progressiva diffusione della variante Delta che rende probabile un rialzo dei numeri dei contagi. E così i Vescovi campani ritengono opportuno per scongiurare la diffusione del contagio da coronavirus di continuare a vietare le processioni.